Grazie, eccoci e naturalmente iniziamo un po' dopo, ma scherzavamo prima che ragioniamo con i tempi dell'antico, del moderno, del classico e quindi insomma cosa volete che sia questa attesa, ovviamente ci scusiamo, ma questa sera parliamo di migrazioni, di migrazioni di ieri di oggi, Umanità errante è il titolo della conversazione, della chiacchierata di questa sera, sulla quale vorrei partire con una domanda per Francesca Mannocchi, giornalista, che è proprio migrazioni, conflitti, come sapete ha raccontato e racconta, recentemente ha scritto un libro per ragazzi, lo sguardo oltre il confine, che prova a raccontare ai ragazzi anche alcune delle cose forse che diremo questa sera. E con Francesca Mannocchi volevo partire un po' dai termini della questione, cioè dalle parole con le quali si racconta questo fenomeno. Si parla di migranti o di immigrati, a seconda della visuale, si parla di clandestini, si parla di profughi, si parla di rifugiati, di richiedenti asilo, prima ci confrontavamo su quanti modi ci sono per raccontare queste persone. E l'altro aspetto è che il termine tipico della questione è l'emergenza, no? Tu dicevi, dal punto di vista del racconto mediatico è sempre emergenza migranea. Ci racconti un po' dal tuo punto di vista quali sono i termini di questa questione? Grazie Lorenzo, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per l'attesa. Partirei dall'emergenza per arrivare alle parole. Cosa ci aspettiamo in quanto cittadini di fronte a un fenomeno? Che il fenomeno, qualunque esso sia gestito da chi ha la responsabilità di avere cura della comunità? Questa frase tradotta nella nostra vita quotidiana contemporanea sostituisce sempre la parola fenomeno con la parola emergenza. Un fenomeno è un processo che si svolge in un tempo lungo, in uno spazio altro. L'emergenza è sempre qui e ora, è sempre un evento, è sempre presente. Il fenomeno no, il fenomeno ha tanto tempo, ha il passato, ha delle ragioni, ha un futuro, si può prevedere. L'emergenza apparentemente no. Uno tsunami è un'emergenza, un terremoto è imprevedibile, i flussi migratori no. E poi imprevedibile, insomma. Spesso ci insegnano gli eventi a cui assistiamo anche in questi giorni che troppo non si fa anche rispetto a quello che si potrebbe prevedere, sempre perché non abbiamo cura nel tempo. I flussi migratori si possono prevedere, i flussi migratori si devono gestire. Questo è quello che ci si aspetta da chi, adesso non voglio scomodare la parola politica, ma da chi deve avere cura della comunità, da chi deve avere cura di sé e dell'altro. Perché l'abbiamo la responsabilità di avere cura dell'altro? Perché per esempio, in quanto nazione, abbiamo firmato delle convenzioni internazionali che ci impegnano verso l'altro. La Convenzione di Ginevra ci impegna verso l'altro, ci chiede di essere responsabili dell'altro. Nella premessa della Convenzione di Ginevra esiste la parola responsabilità e noi l'abbiamo firmata. non è opinabile, discutibile, archiviabile, perché il nostro paese ha firmato quella Convenzione. Significa, chi bussa alla tua porta e ha bisogno, va protetto. Lo devi fare, non puoi decidere di non farlo. Lo devi fare. Perché si usa l'alibi dell'emergenza rispetto alla responsabilità della gestione. Perché di fronte all'emergenza ci sono risposte emergenziali, evidentemente. Di fronte ad una cosa che accade improvvisamente e apparentemente in una forma, in una misura più che in una forma, in una misura che sembra complicata da contrastare, si mettono in atto delle risposte che sono risposte emergenziali che evidentemente manifestano tutta la loro fallibilità. Questo accade rispetto all'accoglienza che in questo paese non funziona e accade rispetto alla esternalizzazione dei confini. A riflettere sul confine ci arriveremo nel corso della conversazione, ma l'esternalizzazione dei confini ha manifestato nel corso degli ultimi non cinque anni, vent'anni, non funzionare. Perché i flussi migratori sono come l'acqua. Chiudi una porta e l'acqua passa da un'altra parte. Chiudi una rotta, se ne inventa un'altra. Chiudi una rotta pericolosa, se ne aprono altre più pericolose. Raccontare il flusso migratorio sempre solo come un'emergenza ha varie conseguenze. La prima è che non si gestisce mai qualcosa che è destinato a non finire, perché le persone nascono naturalmente in movimento. La seconda è che i fenomeni non si capiscono, perché creano il vocabolario dell'emergenza, crea panico, impazienza, paura, scetticismo verso l'altro, uccide la curiosità di conoscerlo, disintegra la curiosità di conoscere le ragioni per cui l'altro si sta muovendo e confonde perché diventa strumento verbale il luogo comune, lo stereotipo e quindi le parole vengono private del loro significato. Così è la parola movimento, così è la parola migrante. Io ricordo quando ero bambina e guardavamo le navi che arrivavano dall'Albania, usavamo la parola straniero. Pensate quanto è diverso straniero da migrante. Straniero un po' fa venire la curiosità di conoscere l'altro, clandestino no. Straniero ha un alone di fammi vedere cosa c'è dietro, fammi chiedere a lui da dove viene, fammi chiedere a lui dove vuole andare. Pensate quanto non usiamo mai rispetto alle persone migranti la parola esilio e quanto invece sia il destino delle persone che bussano alla nostra porta, l'esilio. La mancata gestione, concludo, ci fa abusare di parole che noi svuotiamo. In questo senso, gli ultimi otto mesi che abbiamo vissuto e che nessuno di noi si aspettava ci hanno dimostrato con grandissima forza che questo continente può fare molto più di ciò che ha manifestato di temere nel corso degli ultimi vent'anni. Abbiamo accolto in tre mesi quattro milioni di persone. Quattro milioni di persone. Ogni anno tremiamo perché arrivano centomila persone dal mare. A questi quattro milioni di persone abbiamo garantito la possibilità di utilizzare una tutela che esisteva già e che semplicemente non era usata, cioè la protezione straordinaria. Che cosa è la protezione straordinaria? La protezione straordinaria significa dire ad una persona che arriva e chiede protezione perché scappa da una guerra, che ha diritto alla mobilità, che non hanno le persone vincolate dal trattato di Dublino, che devono vedere processata la loro richiesta d'asilo nel paese in cui arrivano. Alle persone che scappavano dalla guerra in Ucraina è stata data una protezione straordinaria che prevede, per esempio, che se arrivano in Italia ma hanno un cugino a Lisbona, possono liberamente andare a Lisbona. Perché? Come si accoglie, come si integra meglio una persona? Si integra meglio se ha una comunità a cui appoggiarsi. E questo è esattamente quello che chiedono tutti coloro che chiedono giustamente la riforma e il trattato di Dublino. Un cittadino siriano che arriva in Europa starà meglio da solo in Italia dove ha proda? O starà meglio se arriva ad Hamburgo dove ha una comunità di cugini e fratelli che vivono là? I siriani che arrivano in Europa non hanno la possibilità di andare liberamente ad Hamburgo dai loro cugini e fratelli perché c'è il trattato di Dublino. E concludo davvero, continuare a nominare la parola clandestini, continuare a dire migranti senza dire persone migranti, fa sì che si perda la capacità di chiedere loro davvero non da cosa scappi e questo dovrebbe riformare il nostro pensiero sull'emigrazione e sull'accoglienza, ma come vuoi contribuire alla vita di questa società che ti accoglie. Ecco io credo che noi dovremmo proprio ribaltare gli interrogativi, le domande che facciamo alle persone che bustano alla nostra porta, non da dove vieni ma dove vuoi andare. Che cosa vogliamo fare insieme? Ecco io credo che se ribaltassimo la domanda si ribalterebbe l'archetipo che noi abbiamo sulle persone migranti. Grazie, grazie Francesca. Questa sera faremo ovviamente un viaggio tra ieri e oggi, tra antico e contemporaneo. E allora volevo chiedere al professor Canfora, storico, filologo, non devo certo presentarlo. Un po' una prospettiva su questo, cioè se le emigrazioni sono un fenomeno ad esempio che è sempre esistito, perché ci si muoveva, ammesso che ci fossero motivazioni uniche nell'antichità, nel mondo classico, anche se classico è una parola che ha le sue complessità, e forse anche perché a un certo punto, non dico che ci siamo fermati, ma com'è che siamo arrivati a stanziarci in alcuni posti e a creare delle forme, diciamo, di convivenza, di urbanizzazione, che forse assomigliano un po' a quelle che abbiamo tuttora, o magari no? Ci dica lei. Sì, è una domanda legittima, ma difficile, perché sulla base delle conoscenze che abbiamo possiamo citare degli esempi concreti. Ascoltando quello che si è detto prima e cercando di adeguarmi alla domanda, mi veniva in mente una duplice situazione concreta. Sparta e Atene, nel senso comune, sono due città simbolo di un'area geografica di una certa epoca, eccetera. Allora, nel mondo Peloponnesiaco, al centro del quale c'è Sparta, che poi non era neanche una città, era un insieme di comai, di villaggi, con un punto centrale, diciamo, di importanza politica. Chi sono gli spartani? I Dori, popolazione dorica, che a un certo punto è arrivata attraversando la penisola balcanica, la Grecia centrale, poi stanziandosi nel Peloponneso, si discute, sono arrivati tutti insieme, sono arrivati a gruppi, è inutile, non lo sapremo mai in realtà. Probabilmente sono arrivati in una formazione talmente capace di imporsi da schiavizzare le popolazioni che c'erano prima. I famosi iloti e perieci, gli iloti sono gli schiavi di tipo laconico, di tipo peloponnesiaco, vengono terrorizzati, i ragazzi spartani si esercitano ad ammazzarli di notte per addestrarsi nella guerra, il mondo classico cosiddetto è di una ferocia inaudita. E quella è una migrazione dorica, per l'appunto, che ha soverchiato una realtà preesistente schiacciandola. Si consideravano dei puro sangue, perché non si mescolavano con la popolazione preesistente. Infatti il Führer diceva che Sparta è lo stato razziale perfetto. Era un ignorante in realtà, perché non è vero questo. Non sapeva, fra l'altro, che in caso di perdite umane molto forti, le donne spartane si univano a iloti per produrre altri figli, che vennero chiamati epeunatti, perché concepiti sul letto che era stato di uno spartiata, che però era morto in guerra e un ilota era servito per produrre un altro spartiata, nella illusione che per via materna si sarebbe conservata questa purezza. C'è un che di animalesco in tutto questo, che è tipico del nazismo. Il nazismo è una forma animalesca di pensiero, se pensiero si può usare. All'opposto c'è il mito ateniese della autoctonia. Anche Tucidi, all'inizio della sua opera, che dovrebbe parlare della guerra ma poi risale molto indietro nel tempo, dice mentre in altre parti della Grecia c'è stato un continuo spostamento, gli ateniesi, forse perché il terreno era ostico, inclemente, difficile da coltivare, sono rimasti sempre là. Allora gli ateniesi avevano cavato da questa presunta loro continuità l'idea di essere autottoni, cioè nati lì, va bene. Aristofane li prende in giro un po' in qualche commedia naturalmente perché diciamo le persone dell'elite culturali consideravano queste forme mentali come grossolane naturalmente. Noi non crederemo né che i dori spartiati fossero puri né che gli ateniesi fossero autottoni, però sono due esiti opposti di due fenomeni ben diversi, spostamenti o residenza stabile. Questo diciamo per avere un quadro semplificato ma non diciamo privo di un senso. Il senso è quello poi della conflittualità permanente con tutti gli inconvenienti della conflittualità. Nel mondo greco considerato un'area geografica più ampia si determina in un certo momento un fenomeno massiccio che noi chiamiamo la colonizzazione greca, cioè il fatto che si spostino in numero consistente per andarsi a sistemare in casa di altri, ma in realtà non sempre in forma necessariamente conflittuale. Abbiamo notizie naturalmente scarse, però ci facciamo un'idea. Nel V secolo, alla fine del VI e poi nel V a.C., questo è un meccanismo che ha una finalità militare. Per esempio Atene sarà stata autoctona, tutti gli Atenesi sempre lì, però va in casa degli altri e fonda comunità in cui la componente atenese è egemonica, potidea nella traccia meridionale. Però la popolazione locale reagiva. In un certo momento la colonia di Potidea, costruita dagli Atenesi, da un certo Agnone, che era il padre famoso Teramene, viene soverchiata dagli Edoni. Gli Edoni erano una popolazione traccia che a un certo punto li ha massacrati in maniera micidiale migliaia di morti, che per la piccolezza delle città antiche era un colpo durissimo. Ma al tempo di Pericle, che è un tempo lungo perché lui ha governato quasi trent'anni la sua città, in varie forme, a un certo momento Pericle guarda a Occidente. Probabilmente, almeno secondo Plutarco, aveva addirittura concepito una spedizione in Sicilia, perché la Sicilia era a terra contesa tra cartaginesi nella parte occidentale e greci nella parte orientale. Questo poi lo tenterà suo nipote al Cibiade. Non ce l'ha fatta, però ha creato una colonia importantissima in Lucania, diremmo noi, Turi, e manda lì Protagora, che scrive la Costituzione. Erodoto, che era un suo grande amico, ma non era tenese, era un greco d'Asia, il quale prende la cittadinanza di Turi, il Podamo, che fa l'urbanistica. Quindi la colonizzazione ha aspetti complessi, talvolta diciamo di convivenza più o meno bene accetta, talvolta invece di sconfitta di una situazione preesistente, di oppressione o eliminazione di una popolazione preesistente. Ma il fenomeno è vasto, per cui va dalla costa dell'Asia minore a Marsiglia, al Nordafrica, alla costa meridionale dell'Italia, diciamo Magna Grecia e Italia meridionale. Altro tipo di migrazione programmata, le cleruchie. Abbiamo un esubero, si direbbe con linguaggio nostro, di gente senza lavoro, che però sarebbe capace di praticare bene l'agricoltura, e ne piazziamo 500 in casa di altri. Questi erano i cleruchi, che avevano un bel terreno, il padre di Aristopane probabilmente era un cleruco, non so quanto, anche il padre di Epicuro a un certo punto della sua vita ebbe questo terreno, ma veniva tolto a quelli che stavano già prima. Talvolta veniva fatto in maniera feroce, quando Atene invade con qualche difficoltà l'isola di Melo, o Milo, come diremmo noi pensando a Venere, massacra la popolazione maschile adulta, schiavizza donne e bambini e piazza cleruchi ateniesi. Quindi Melo diventa un pezzo di Atene, eriattica. Questi sono aspetti atroci degli spostamenti di popoli. Conforme a questa mentalità è una forma mentis strettamente urbana. Di solito si parla, ma non sarò lungo, taglierò corto rapidamente. Di un libro importantissimo come la Politeia di Platone, come di un testo utopistico perché disegna una società in cui filosofi governano, eccetera. Si dimentica spesso che l'orizzonte di questa escogitazione che Platone ritiene attuabile, non la pensa come utopia, l'orizzonte è minuscolo, è la polis che deve essere governata dai filosofi e dai guerrieri perché i guerrieri devono combattere contro altre città. È il pensiero post-aristotelico grandissimo ma trascurato perché ci è arrivato in frammenti che dilata l'orizzonte. Per cui ogni tanto mi viene in mente, visto che, come dire, invecchiandosi hanno delle idee strampalate, che nelle scuole si potrebbe leggere Diogene di Enoanda. Però bisognerebbe dire al ministero chi è Diogene di Enoanda. Questo è inevitabile. Diogene di Enoanda è un epicureo devoto di Epicuro del quale abbiamo l'opera in pezzi di pietra perché lui aveva fatto iscrivere le opere sue e di Epicuro nel portico della sua città, Enoanda, che è vicino e sulla costa asiatica di fronte all'isola di Rodi. Quindi noi abbiamo queste opere perché quel materiale si è salvato. I turchi l'hanno usato per materiale di costruzione ma archeologi austriaci e tedeschi lo hanno recuperato e quindi noi abbiamo centinaia di frammenti di quest'uomo. Al centro del suo pensiero, che forse viene da Epicuro perché è un devoto del maestro, c'è che la terra è un'unica città. I confini tra gli stati sono un'invenzione. Noi siamo concittadini di tutti gli altri esseri viventi. Questo pensiero lo leggiamo dentro l'opera di un epicureo devoto, ma è al centro di un'altra grandissima corrente di pensiero, a noi nota soltanto per frammenti o per le parafrasi fatte da Seneca in latino molto tempo dopo, ed è quella dello stoicismo. la divinità, il divino è immanente, quindi in tutti gli esseri umani c'è un elemento divino e quindi tutti gli esseri umani sono fratelli, sono parte di un'unica realtà spirituale e materiale e quindi i confini non esistono. Questo cosmopolitismo degli storici. Quando Marx era un ragazzo, ma abbastanza dotato, diciamo, intellettualmente, volle addottorarsi nell'università di Iena, aveva 21 anni, era nato nel 18 e si addottorò nel 1841 sul pensiero di Epicuro. Curioso quell'uomo perché dice la storia della filosofia l'ha creata Hegel ed è vero, nel senso che c'erano anche prima di Hegel trattati che raccontavano i pensieri dei filosofi, ma una storia della filosofia propriamente retta sono le lezioni di Hegel, che lui non poteva ascoltare perché aveva 12 anni quando quello morì, però ha ascoltato i suoi allievi, ha letto la trascrizione che era stata fatta e attribuisce a Hegel una cosa che non è vera, cioè che la grande filosofia greca è quella post-aristotelica perché scopre la coscienza e scopre questi elementi che nella vecchia mentalità legata alla polis mancavano completamente. Abbiamo parlato troppo, però vorrei aggiungere una cosa, il mondo greco lo conosciamo perché c'è una tradizione di studi lunghissima che si è imposta, ha imposto anche la parola classico come una parola positiva eccetera eccetera, però l'altra faccia di quella realtà è terribile. Il mondo romano ha praticato gli spostamenti di popoli sotto forma di deportazione di popoli. Quando poco dopo la sconfitta del regno macedone gli eserciti, le legioni romane occupano l'Epiro, deportano 200.000 persone che diventano poi schiavi nei latifondi della Sicilia o dell'Italia meridionale. A un certo punto si sono anche ribellati. Però nella mentalità pragmatica del mondo romano c'è anche una specie di atto originale, di fatto originale, che è raccontato dall'imperatore Claudio in un famoso discorso che tacito parafrasa. Romolo raccoglie delinquenti, canaglie, migranti che vengono da tutte le parti del mondo greco, magno greco e così costruisce la città cosiddetta eterna. Questo non bisogna mai dirlo in epoche di romanolatria, perché l'idea della purezza non ne parliamo. Sappiamo che il nostro paese ha ospitato anche una cultura di tipo fascistico che faceva una caricatura involontaria della realtà romana, che invece è questa e che ha avuto al termine, nella pars occidentis dell'impero, un fenomeno di importanza epocale, inglobare dentro la realtà sempre meno solida dell'impero, le popolazioni che venivano da fuori, che noi chiamiamo stupidamente le invasioni barbariche, perché siamo noi stessi barbari, come diceva il grande antifonte, siamo più barbari dei barbari perché neghiamo un'uguaglianza umana, questo era un sofista straordinario. Le naziones sono nate allora e il più accorto, secondo me, profondo interprete di questo fenomeno, immenso, che è la creazione del mondo moderno in sostanza, è stato uno storico siciliano che si chiamava Santo Mazzarino, al quale dobbiamo moltissimo. Francesca Mannocchi, prima dicevi che non bisogna chiedere perché ti muovi, bisogna chiedere dove vuoi andare, però volevo chiederti sulla base della tua esperienza, raccontavi prima che qualche giorno fa sei tornata dalla Somalia, questo anno lo hai passato per lunghi tratti in Ucraina e tanti altri posti ovviamente hai visitato in passato per il tuo lavoro. Se però dovessimo provare a dare qualche risposta al perché ci si muove oggi, al perché le persone migrano, è solo la guerra che muove le persone? Ci sono fattori a cui magari ripensiamo poco ma che forse siamo destinati a considerare sempre più, come ad esempio fattori ambientali, climatici. Insomma ci racconti che cos'è che muove chi si muove oggi? Allora, per arrivare alle motivazioni di chi si muove io partirei dai numeri che ci raccontano alcune realtà meglio delle spiegazioni che diventano slogan e poi diventano stereotipi. Per esempio, l'anno scorso a giugno ogni anno l'UNHCR, cioè l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati pubblica un rapporto nel quale dice quante persone ritenute rifugiati, quindi non quante persone migranti, quante persone ritenute rifugiati ci sono nel mondo. L'anno scorso, anzi quest'anno a giugno, si è toccato un picco che non era mai stato raggiunto, 100 milioni di persone. 100 milioni di persone che se noi ci dovessimo fermare oggi a dire dove stanno, saremmo inclini a pensare che stanno tutte da noi perché siamo invasi. E invece il 75-80% delle persone considerate rifugiate che sono persone in movimento non sono ospitate nei paesi sviluppati ma sono ospitate nei paesi in via di sviluppo, cioè in paesi poveri. Questo per una ragione molto semplice che sta alla base del movimento ma che sta alla base dell'esilio e cioè che se sono forzato ad andarmene da casa mia ed è la fattispecie del rifugiato che scappa perché è costretto a farlo, resto tendenzialmente vicino a casa mia perché spero che un giorno ci torno. Questa è la ragione per cui ci sono tre milioni e mezzo di siriani in Turchia, tre milioni e mezzo di siriani in Turchia, è la ragione per cui in un paese grande come l'Abruzzo che è il Libano, grande come l'Abruzzo ci sono due milioni di siriani. Il Libano complessivamente fa sei milioni di persone, ci sono due milioni di siriani, uno su quattro in questa stanza è un rifugiato più o meno e questa è la ragione per cui tutte le persone che nonostante non abbiano da mangiare, non abbiano un lavoro, vivano da dieci anni in una tenda al freddo o al caldissimo non se ne vanno da lì perché da lì guardano le montagne e dicono vedi quella è Siria, quella è casa mia, magari un giorno ci torno poi che succede? succede che, e arriviamo all'emergenza, succede che 2011 scoppia la rivoluzione siriana. La rivoluzione siriana diventa velocemente una guerra perché non nasce come una guerra, nasce come una rivolta, che è un'altra cosa. La rivolta viene velocemente sedata, male, nel sangue, brutalmente e diventa una guerra, civile prima, per procura poi. Quando inizia la guerra la comunità internazionale che risponde molto bene alle emergenze, molto male alla gestione dei fenomeni, si sbraccia. Mandiamo le tende, mandiamo da mangiare, mandiamo gli aiuti perché a donare un euro al numero verde quando le cose sono urgenti siamo bravissimi. Quando dobbiamo guardare le cose sul lungo periodo molto meno bravi e quindi quando questa guerra scoppia gli aiuti si moltiplicano. Quando la guerra diventa cronica non solo smettiamo di parlarne, ma la comunità internazionale, nella fattispecie i governi che finanziano le agenzie delle Nazioni Unite, dicono quanto ti ho dato l'anno scorso? Diecimila lire. Quest'anno otto, l'anno prossimo sei. Tradotto nella vita quotidiana di un rifugiato significa se prima mangi con cinque euro al giorno, poi mangi con quattro, poi mangi con tre, poi mangi con 1,7 nel 2015. Se prima le agenzie delle Nazioni Unite potevano sostenere un doppio turno delle scuole per i bambini rifugiati, poi non ci sono più soldi per pagare il doppio turno. Allora di turno per i bambini rifugiati se ne fa solo uno. E quindi cosa fanno le persone che guardano la montagna e dicono vedi quella e la Siria? Pensano che a casa loro non ci tornano più. Pensano che i figli stanno crescendo, analfabeti, che quelli che stanno nascendo sono apolidi e allora dicono sai che cosa c'è di nuovo? Che prova ad arrivare in Europa. Quando c'è stata l'ultima vera grande crisi, quella sì un'emergenza prima della guerra in Ucraina, è stata la rotta balcanica. Novecentomila persone che tutte insieme, quasi un milione, arrivano tutte insieme a bussare alle porte d'Europa. Se voi ci pensate lucidamente nel 2015 quanti di voi si sono chiesti ma perché arrivano? Ci siamo tutti chiesti come facciamo a fermarli. Perché abbiamo ascoltato l'eco di chi diceva bisogna ricostruire i muri, chiudere i confini, c'è un'emergenza, come si fa? Quello che ha prodotto quell'emergenza sono state due cose. La prima è che non ci siamo chiesti perché tutte insieme un milione di siriani hanno bussato alle nostre porte, perché avevamo smesso anni prima di aiutarli dove stavano, perché i figli non potevano più andare a scuola, perché non avevano più niente da mangiare, perché avevamo smesso di mandare le tende, perché avevamo smesso di aiutarli non a casa loro ma nelle case dove erano ospitati, nelle case per procura. L'altra cosa che ha prodotto è che abbiamo sancito che di fronte all'emergenza l'unica risposta di cui l'Europa è stata capace negli ultimi dieci anni è stato pagare qualcuno per gestire qualcosa che era incapace di gestire. Nella fattispecie pagare qualcuno che proprio non brillava in quanto al rispetto dei diritti umani e valori sinceramente democratici, cioè la Turchia e la Libia. Però in Libia non ci sono rifugiati per una ragione molto semplice, che la Libia non ha mai firmato la Convenzione di Ginevra e quindi non riconosce lo status di rifugiati. Ed è la ragione per cui, dicevo prima a Lorenzo venerando partecipi, in Libia siccome le Nazioni Unite che stanno lì ma non possono operare conformemente alla Convenzione di Ginevra, perché la Libia la Convenzione di Ginevra non l'ha firmata e quindi mai ratificata, non possono chiamare le persone rifugiate rifugiati, perché in linea di principio i rifugiati in Libia non esistono. Come li chiamano? Li chiamano POC, People of Concern, persone di cui ci dobbiamo preoccupare. Voi capite bene quanto questa roba snaturi l'esistenza di una persona che si muove. Per ragioni varie, perché la siccità gli ha ucciso le bestie, tre figli gli sono morti di fame, perché scappa dalla guerra, perché scappa, oppure no, e concludo, perché ribadisce un diritto fondamentale, perché nasciamo tutti con un po' di divino dentro, che ribadisce il diritto non a scappare, ma a muoversi. Ribadisce il diritto di muoversi e non devo dimostrare di essere torturato per avere diritto di muovermi. Non devo dimostrare che sto scappando da qualcosa per avere diritto di spostarmi da un punto A a un punto B. Ci sono delle regole, datemele, le seguo, ma mi voglio muovere anche e soprattutto se non sono in fuga, perché se disintegriamo il diritto di muoversi, se non si è in fuga, abbiamo ucciso la base della comunità. Grazie a tutti. Il concetto di nazione, molti dicono che sia relativamente recente nella storia umana, se guardiamo alla profondità nel suo complesso, ma nel mondo classico, continuiamo a chiamarlo classico, visto che è il festival del classico, nel mondo classico che forma aveva il confine? All'inizio della Germania di Tacito, Tacito imita un po' Cesare che descrive la Gallia, lui descrive la Germania, l'ha vista, sarà stato tribunus militum da giovane, ormai lo sappiamo. Il confine della Germania sono i fiumi, il Reno, il Danubio, poi ci sono i Sarmati, cioè i russi, li potremmo dire noi modernizzando un po'. Dice lì il confine è mutus metus, il timore reciproco, che è durato nel tempo direi, in quell'area dove fra l'altro non essendoci montagne i spostamenti sono molto più facili. I confini sono delle invenzioni naturalmente, tutti gli stati del Medio Oriente perché hanno quei confini geometrici? Perché li hanno disegnati sulla carta geografica Francia e Inghilterra dopo la fine dell'impero ottomano, dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Infatti quando i nostri governanti, direi un po' tutti nel corso del tempo, hanno adottato la formula difendiamo i confini, parlano di cose che non sanno. Si inventano questa realtà che è una realtà convenzionale dovuta ai rapporti di forza. I confini dell'impero romano sono il frutto della conquista sempre più violenta, omicida. Quando si arriva di fronte a un nemico invece che sa il fatto suo si crea un confine. I parti non si sono mai piegati, hanno inflitto sconfitte micidiali ai romani e quindi Augusto a un certo momento ha deciso che si poteva fare un accordo. Loro gli hanno restituito le insegne, le aquile dell'esercito di Crasso che era stato ucciso nella battaglia di carre contro i parti per l'appunto. Nel 53 avanti Cristo, Augusto molto dopo nel 20 fa questo accordo e quindi si crea un confine, ma è un confine dovuto ai rapporti di forza, non altro. Ma non esiste alcuna, il confine fra il Pakistan e l'India è il frutto della risposta cinica dell'impero britannico contro la indipendenza dell'India. Attizzare una guerra religiosa fra l'area musulmana e l'area che non lo è, che è induista, e quindi si inventa il Pakistan. Un'invenzione. Per cui il confine è il frutto del conflitto, della prevalenza o del soccombere. Quindi sarebbe auspicabile consigliare ai governanti di non dire più questa parola priva di senso o perlomeno di studiare la storia di questa parola prima di usarla. Non so se ho soddisfatto il suo quesito. Direi di sì, però volevo partire proprio da qui e chiedere a Francesca Mannocchi che risposta si può dare a chi legittimamente, in buona fede, dice, e non parliamo magari di leader politici, ma di cittadini, dice che alla fine il confine, per quanto convenzionale, è uno dei tratti che caratterizzano uno Stato. Qualunque Stato è tale anche perché ha dei confini e li difende. Non mi guardi male. Questa è una argomentazione diffusa nell'opinione pubblica. Ripeto, non concentriamoci magari sul dibattito politico, ma più sulle percezioni sul dibattito che circola tra le persone. oppure si potrebbe anche dire, va bene il diritto a muoversi, di cui parlavi prima, ma è in realtà un'utopia, perché nessuno di noi avrebbe il diritto di andare in un altro paese se non, diciamo, paesi dell'area Schengen e va bene, ma senza un passaporto, senza un visto. Come si può rispondere a queste obiezioni che sono comunque, mi pare, piuttosto diffuse nella società italiana e che hanno a che fare, ci direi tu, magari con un elemento di paura, con un elemento di condizionamento del dibattito pubblico da parte di… insomma, dici tu. Hanno a che fare con la paura, con un timore che è frutto di un'abitudine che abbiamo smarrito, per ragioni su cui non ci stiamo a tediare, che conosciamo tutti, ha un pensiero complesso e articolato, perché non si può parlare oggi in questo paese di immigrazione dal Nord Africa senza spiegare ai cittadini che sono così recalcitranti ad accettare che arrivi l'altro senza spiegare che negli ultimi dieci anni, da quando le primavere arabe, diciamo così, poi anche dire arabe è sbagliato, insomma, le primavere nordafricane hanno animato i tre paesi, l'Egitto, la Libia e la Tunisia, l'Italia, specificamente molto più della Francia per esempio, ha stretto degli accordi condizionali, cioè aiutiamo questi paesi nel loro processo di sviluppo economico, di una formula che piace tanto alla gente che piace, transizione democratica, che non significa niente in paesi che la democrazia non sanno neanche che cos'è, che li aiutiamo, tradotto, gli diamo denaro, a patto che si riprendano le persone migranti che sono arrivate da noi, cioè un aiuto condizionato. Tunisia, noi apriamo la fabbrica in cui comunque i lavoratori li paghiamo un quinto e senza diritti di quello che daremo a un lavoratore italiano, ma la apriamo e diamo in qualche modo dei fondi all'infrastruttura tunisina, allo sviluppo dell'occupazione tunisina, a condizione che vi riportate ogni martedì e ogni giovedì due aerei pieni di cittadini tunisini che sono partiti e se ne sono venuti via in tutta quella migrazione nascosta che non ha niente a che fare con le ONG, che non ha niente a che fare con i grandi arrivi, ma ha a che fare con le barchette da 20 persone che arrivano, gli sbarchi ombra in buona sostanza, quelli che non fanno notizie ma che fanno i numeri veri. Se non si spiega la mala gestio del fenomeno migratorio, non dell'emergenza migratoria, del fenomeno migratorio e del perché i numeri non aumentino ma non diminuiscano nonostante l'esternalizzazione e il pagamento dei nostri confini appunto, non si potranno mai vincere quelle paure, anche perché oggi c'è un dato che è anche un dato anagrafico che sta cambiando i flussi migratori, ma che sta cambiando anche le piazze e se noi non impariamo a leggere cosa chiedono le piazze, le piazze nordafricane, le piazze di Baghdad, le piazze iraniane, le piazze di Kabul, che sono piazze completamente diverse da quelle di prima. Le piazze di Beirut sono movimenti post-ideologici, non sono più mossi da, per esempio, vi faccio un esempio banalissimo, la vita libanese è mossa da una divisione settaria e confessionale da quando è finita la guerra civile nel 1990, chi scendeva in piazza lo faceva in nome di qualcosa, i drusi in nome dei drusi, i maroniti in nome dei maroniti, gli sciiti, i sunniti e così via. I giovani che scendono in piazza oggi, anche i giovani che scendono in piazza a Baghdad e anche lì è stata repressa l'ultima ondata di rivolte, sono giovani che scendono in piazza senza bandiere, non scendono in piazza in nome di una religione, in nome di un'interpretazione di una setta, scendono in piazza a chiedere dei diritti che hanno dappertutto le stesse parole d'ordine. Se guardate la piazza iraniana e guardate quella di Baghdad e guardate quella di Beirut, c'è una parola che torna sempre e che qui dovrebbe tornare pure qui ma ce la siamo persa, che è la lotta alla disuguaglianza sociale. È quello che muove le persone oggi dappertutto, la lotta alla disuguaglianza sociale. La richiesta di distribuire di più e meglio quello che c'è. Perché la parte di mondo che vive meglio, ecco non voglio neanche dire la parte di mondo privilegiata perché non penso che sia giusto dire privilegiata, ma la parte di mondo che ha di più distribuisce internamente poco e male, esternamente non ne parliamo. E allora questa generazione in movimento post ideologica dice ti busso perché voglio contribuire alla tua comunità e perché voglio un pezzetto di quello che mi spetta. Voglio un pezzo di quello che mi spetta in termini dei diritti, in termini di ricchezza, in termini di possibilità. Dammi la possibilità che hai tu. E per concludere io penso che la paura, magari sbaglio, ma parlando con questi ragazzi in tanti anni, penso che quello che ci fa paura in maniera forse subliminale è la capacità che hanno questi movimenti di persone di chiedere ciò di cui hanno bisogno e quello che gli spetta di diritto. Perché sono un essere umano e voglio che mio figlio vada a scuola, voglio lavorare, voglio una casa, voglio che lo Stato mi protegga. Ecco, questi movimenti di persone hanno una forza che noi abbiamo smarrito perché ci siamo abituati a subire tanto, troppo e loro no. E forse un pochetto dovremmo imparare dalla capacità di rivendicare dei diritti. Professor Canfora, per chiudere volevo proporle una riflessione che insomma un po' accompagna questo festival, se vogliamo. Cioè tutto ciò di cui si sta parlando in questi giorni, in questa manifestazione, ha a che fare con ciò che ci è arrivato dal passato. Parlavamo prima del fatto che non era scontato che ci arrivasse ciò che ci è arrivato e non era scontato che ciò che non ci è arrivato si perdesse. E però mi sembra di poter dire che per gran parte della storia dell'uomo il sapere che è stato trasmesso si è mosso insieme agli uomini. Oggi viviamo in un mondo in cui il sapere si muove, migra, anche se gli uomini stanno fermi con il digitale, con insomma le tecnologie. La convince questa lettura è che vuol dire se il sapere migra nonostante gli uomini? Ma non è un fenomeno del tutto nuovo in realtà, perché per esempio con la moltiplicazione simultanea dovuta alla stampa del libro, che prima era copiato per singolo esemplare da un copista addestrato, già c'è un salto verso una diffusione rapida di conoscenze che può marciare più velocemente che le persone. Certamente il libro stampato in migliaia di copie che arriva da un capo all'altro, per esempio della Francia del 600, dove una tiratura di 4-500 copie di libri molto voluminosi è già un'impresa, o invece i libri piccoli di formato che si possono portare in tasca eccetera in migliaia di esemplari e velocemente arrivano da Marsiglia a Cannes o a Parigi o sui Pirenei, certamente con una velocità di granulo superiore. Quindi il fenomeno c'è già stato e si perfeziona con tecniche che sono ormai quelle addirittura istantanee e senza limiti geografici e neanche di tempo. Quindi questo è un fenomeno del quale possiamo dire per fortuna si è prodotto, mentre meno siamo sicuri che sia al tempo stesso equanime, cioè raggiunga una pluralità di ceti sociali. Arriva molto più velocemente dove c'è una ricezione più sicura, meglio attrezzata, quindi ancora una volta una disuguaglianza di fatto. Però indubbiamente con questa tecnica così pervasiva i limiti tra le classi traballano. Molti di questi processi chiamati giustamente rivoluzionari o comunque di movimento che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni sono dovuti proprio alla diffusione di queste tecnologie che fanno paura spesso al potere. Allora qual è la morale di tutto ciò? Ammesso che si possa cavare una morale così la sera alle 8.30, d'enblè, insomma è un po' azzardato, però prima si parlava di cosa pensa la gente comune del fenomeno confini eccetera. Non esiste un pensiero allo stato puro. C'è una bellissima pagina di Gramsci che dice che quello che noi pensiamo è il terminale di tutto quello che ci fanno pensare attraverso canali che sono spesso evidenti, molto più spesso non evidenti. Così si forma l'opinione e il soggetto è convinto di pensare qualche cosa tutta sua ma non pensa a una cosa tutta, pensa a quello che gli è stato portato nella sua zucca attraverso strumenti che sono anche quelli modernissimi. Questo cosa vuol dire? Che nessuno è perfettamente libero? Gli stoici dicevano solo il saggio è libero, ma si illudevano perché anche il saggio non è affatto libero. Per cui la fuoruscita da questa situazione che potrebbe sembrare disperante è il conflitto, creare pensieri alternativi che contrastino quelli che invadono il nostro modo di pensare e quindi ben vengano le tecnologie le più raffinate perché sono uno strumento formidabile. Grazie a Luciano Canfora, Francesca Mannocchi e a tutti voi.